Salve a tutti ragazzi sono sempre io a mezzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Allora, sono girato già un po' male, partiamo subito così perché Ho registrato un'ora e mezza di calcio mercato ma Legato Game Capture ha corrotto i file Vi metterò sotto, intanto che parlo vi metterò le prove che i file sono corrotti Allora ragazzi vi faccio vedere che i file della carriera allenatore sono corrotti Perché qui parte, parte bene Ma poi se vado avanti, guardate, guardate Va tutto a scatti, va tutto a scatti e ovviamente non è possibile utilizzarlo Anche perché io ho registrato un'ora e mezza e guardate, guardate come va Passa da una cosa all'altra, è impossibile Se guardate il contatore sotto dei secondi dice 41 secondi nonostante che io musacchio l'abbiamo Guardate che roba, ditemi se è possibile registrare così Assolutamente, guardate che mamma mia Comunque, sono contento almeno che avete visto quello che veramente è successo Io purtroppo mi scuso, mi scuso per questa cosa perché magari oggi voi vi aspettavate un altro video Ma comunque ci sarà anche qui un po' di calcio a mercato Parliamo, purtroppo è successo che si sono corrotti i file ragazzi Ho registrato un'ora e mezza e mi dispiace Ma potete capire che io centro veramente poco Ho staccato l'elgato, ho provato a togliere un po' di polvere Vediamo, speriamo che non succeda più Comunque ragazzi, vi volevo far vedere un po' di... Un po' di... vi volevo fare un mega riassunto ragazzi Un riassunto di quello che abbiamo fatto Innanzitutto vi voglio ringraziare tantissimo Vi voglio ringraziare veramente tanto perché ho trovato sotto il video Il primo video della carriera allenatore con l'Inter Veramente tantissimi consigli Tantissimi consigli ragazzi Io non credevo che vi potesse piacere così tanto questa idea Questa carriera, questo progetto E sono veramente, veramente molto contento Vi ringrazio tantissimo per il supporto E spero che avrò lo stesso supporto anche in questo video Cercate di capirmi, fare questo video adesso è veramente tosta Dopo aver registrato un'ora e mezza di calcio mercato Sempre tutto in fumo, tutto il lavoro che si fa Comunque ragazzi, grazie veramente, veramente tanto Vi chiedo di lasciare un mi piace anche per questo episodio Comunque andiamo a fare un po' di... di riassunti Mi avete fatto veramente tantissimi consigli Come ho detto nel video Vi leggo un po' i consigli che mi avete dato E commenterò quello che è... quello che è successo nel video Per esempio, mi avete consigliato di comprare Walker Come terzino destro Walker Florenzi Ho provato ad acquistare Walker Ma non mi convinceva tanto Allora sono andato su Florenzi E alla fine ho acquistato Florenzi Perché mi può fare il terzino destro e l'ala L'esterno destro o comunque l'ala destra Come terzini sinistri ragazzi Me ne avete consigliati veramente, veramente molti I più interessanti Scusate se non guardo ma guardo proprio quelli che mi avete consigliato voi I più interessanti ragazzi Erano Gaia Se non sbaglio del Valencia Masuaku anche Masuaku E mi avete consigliato anche Yuxo Io non ho assolutamente guardato quelli che avevo pensato io E sono andato a provare ad acquistare questi tre Ma non ci crederete mai ragazzi Per Gaia Ma mi hanno chiesto 30 milioni Allora purtroppo mi sono tirato Purtroppo mi sono tirato indietro Dispiaciuto perché Gaia volevo provare ad acquistarlo Però alla fine ho acquistato Yuxo Una quindicina di milioni se non sbaglio Un giovane promettentissimo E quindi sono molto contento Passando alla difesa centrale invece Ho acquistato Musacchio Mi chiedevano 35 milioni ragazzi Ma l'ho acquistato perché Avevo Ho fatto una contropartita con Con Vidic E quindi ho acquistato Musacchio Mi sembra per 10 milioni Più Vidic Purtroppo però ho venduto One Jesus Mi hanno offerto 18 milioni ragazzi Dovevo per forza accettarli Ne valeva 12 E ho venduto Vabbè Vidic e One Jesus E mi è rimasto Ranocchia Magari se mi arrivano delle offerte Posso provare ad acquistare Un difensore centrale Abbastanza forte Come terzino sinistro ragazzi Però ho dovuto abbandonare Anche Nagatomo Perché sinceramente Non entrava nei miei piani Passando al centrocampo però Mi avete consigliato Ho venduto Guarin e Medel Ho venduto Guarin e Medel Perché non rientravano Del tutto nei miei piani Visto che come CDC Diciamo così Avevo già con Dugbia E Felipe Melo E New Curie Da poter utilizzare Più avanzato Sia Guarin che Medel Gli ho utilizzati per fare cassa Ho venduto entrambi Per 18 milioni E sono veramente molti soldi Ci sta Perché comunque Non rientravano nei piani E come gioco io Purtroppo Non ci sarebbe stato spazio Per loro Ho preferito ottenere New Curie E Brozovic Probabilmente Cercherò di andare Ad acquistare Un altro Magari un giovane Centrocampista difensivo centrale Mi raccomando sotto Nei commenti Un CDC Duda 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 E quindi dovrò acquistare Un nuovo portiere Giovane Giovane Ma purtroppo Tutti quelli che mi avete consigliato Non sono possibili Non è possibile acquistare Perché le ali Non posso comprarlo Perché è in prestito Scuffette Non posso comprarlo Perché è in prestito Per in costa troppo E quindi sto ripiegando Su un portiere Giovane Ma sinceramente Non so Sportiello Probabilmente Come detto In centrocampo Sto cercando di acquistare L'esterno destro Marez Perché ho provato Uno scambio Con Alvarez L'hanno accettato Devo fargli il contratto Solamente Che Dobbiamo giocare La prima partita Del campionato Con l'Atalanta Quindi il mercato Non è ancora finito Ma c'è ancora Una settimana Buonissima Di mercato Per il resto Sto cercando di acquistare Questo Marez Sto seguendo ancora Villalba Perché magari Posso acquistarlo Per poco prezzo Villalba è veramente Un giocatore interessante Poi ho acquistato Signori Come COC Mi sono dovuto Togliere uno sfizio Ragazzi Perché ho acquistato Cialanoglu Ho acquistato Cialanoglu E Lo volevo tantissimo Non l'ho pagato Neanche tanto Perché l'ho pagato Se non sbaglio 19 milioni E li vale tutti Ragazzi Il vero problema È che non ho Un vero e proprio Sostituto A parte Duda Nel suo ruolo Quindi adesso Vediamo come poterci Gestire Come poterci gestire Questa cosa Per quanto riguarda Invece La fascia sinistra La fascia sinistra Come esterno sinistro O alla sinistra Da sostituire Con Perisic O Iaic Ho acquistato Bolasi Signori Bolasi Che secondo me È un giocatore Veramente buono E anche abbastanza In questi ultimi anni Ha messo su Un po' di esperienza L'ho acquistato Per 8 milioni e mezzo Più o meno Quindi Neanche una cifra Abbastanza Tranquilla Quindi sono molto contento Veramente molto contento Di avere acquistato Bolasi Che si farà a cambio Con Perisic Per quanto riguarda Il centrocampo Direi che abbiamo finito Aspetto le ultime trattative Nel caso mi arrivassero Dalle altre offerte Vediamo come comportarci Passiamo all'attacco Ragazzi Passiamo all'attacco Perché Se non riesco ad acquistare Marez Mi servirebbe anche Una alla destra E sono molto 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 Puntato Ad andare Su Bernardeschi Ragazzi Bernardeschi Bernardeschi Vale 2 milioni 700 Io proverai A contattare La Fiorentina Per acquistarlo Magari Inserendo Anche Un attaccante Ok Comunque Però Ho Biabiani E nel caso Posso fargli fare L'ala destra Agli Aic Che non è assolutamente Male Ma stiamo aspettando Ancora Marez Però in attacco Ragazzi Come Sostituto O come vice Icardi Ho acquistato Henry Kane Signori L'attaccante del Tottenham Che l'ho pagato Anche lui Una ventina di milioni Che secondo me È buonissimo È buonissimo E quindi ragazzi Vi faccio vedere Un attimo Le trattative Che sono state fatte In corso Per il momento C'è Marez Bernardeschi E Duda Aspettando Anche un portiere Quelle riuscite Sono Musacchio Cialanoglu Vendendo Guarine Medel Poi ho venduto One Jesus Ho acquistato Shaw Kane E Florenzi E Bolasie Ho venduto Carrizo Nagatomo Berni Vabbè Mapelli E Mapelli Quelle fallite Invece sono molte Perché Ho provato ad acquistare La casetta Ma ragazzi Guardate quanto volevano 30 milioni Ho provato ad acquistare Wameyang Ma anche qui Volevano veramente molto E non mi Mi sarebbe dispiaciuto Vendere Tanti altri giocatori Dell'Inter E stavo per acquistare Mkhitaryan Ma purtroppo Il Barcellona Mi ha preceduto Quindi ragazzi In sostanza Diciamo che La nuova formazione Dell'Inter Potrebbe essere Questa Allora Andanovic Jukšho Musacchio Miranda Florenzi Contogba Felipe Melo Cialanoglu Bolasie Icardi E Pia Biani Ora sto cercando Un'ala destra Ma aspettando Un esterno destro Ma abbiamo Vi faccio vedere Subito i sostituti Perché In difesa sono coperto Ho Murillo E nel caso Anze Ranocchia Perfetto Poi a sinistra Al posto di Jukšho Cio Tejes A destra Al posto di Florenzi Cio D'Ambrosio Oppure Santon Vabbè Montoya Non mi interessa Non mi interessa Sinceramente Non mi piace Come giocatore Poi Abbiamo Kondogbia E Felipe Melo Che possono essere Sostituiti Da Brozovic E Njukuri Aspettando Aspettando Magari Eventualmente Un centrocampista Difensivo Che mi Consigliate Consiglierete Voi Nei commenti Al posto Di Celanoglu Sto provando Ad acquistare Duda Ma nel caso Jovetic Potrebbe fare Questa posizione Dietro Dietro La punta Sono coperto Anche A sinistra A posto di Bolasio Perché Ho Perisic Che in questo momento È infortunato Ma ho anche Iaic Quindi ragazzi Sono coperto Abbastanza Tutte le posizioni Al posto di Cardi Si potrebbe mettere Anche Harry Kane Questa è Una formazione Con cui mi piacerebbe Giocare Un'altra formazione Che non Disdegno Per niente È il 451 E Sempre questa formazione Vedete Celanoglu Che sta sempre Dietro la punta E potrebbe essere Sostituito Da Da Jovetic Oppure Per cambiare Totalmente Modulo Perché alla fine Questi due Si Si Somigliavano Molto Un 4-4-2 Largo Mi piacerebbe Molto Mi piacerebbe Molto Con Icardi E poi mi manca L'esterno destro Che dovevo Acquistare Ovviamente Al posto di Biabianici Metterà Henry Kane O comunque Palacio Jovetic In ogni caso Le sostituzioni Ce le ho Mi mancherebbe Solamente Un esterno destro E comunque Il sostituto Di Andanovic Portiere Per il resto Noi ci vediamo Nel prossimo video Che dovrebbe essere La prima partita Di campionato Oppure Finisco Di Registro La partita Di campionato E poi Finisco Di registrare Il mercato Così vediamo Anche un altro Episodio Di calcio Mercato Che sarebbe Un altro Episodio finale Di calcio Mercato Non sarebbe Veramente male Quindi ragazzi Molti acquisti Luke Shaw Musacchio Florenzi Bolasi Henry Kane E Cialanoglu E ne devono arrivare Ancora a due o tre Quindi più o meno Gli acquisti che ha fatto Mancini Quest'estate Spendendo veramente poco Perché abbiamo Speso una cinquantina Di milioni Riuscendo a vendere Anche Guarin Medel E qualche altro Giocatore Che non sarebbe stato Titolare Quindi ragazzi So che questo video Purtroppo breve È breve So che questo video Purtroppo è breve Ragazzi Ma Purtroppo Come vi farò vedere I dati sono stati Tutti Corrotti Tutti corrotti E niente signori Noi ci vediamo Al prossimo video Col calcio Mercato Spero che questi Giocatori Che ho acquistato Vi piacciono Sono veramente forti Ragazzi Cialanoglu Una bestia Bolasi E anche La linea difensiva È praticamente Sistemata al 100% Signori Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciatemi un piaccio Un commento Un consiglio Noi ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti ragazzi